Perché sì? Sì, per diversi motivi. Il primo perché finalmente riusciamo a superare il decameralismo perfetto, anzi, poco perfetto non lo è, diciamo paritario, che comunque contraddistingueva questo nostro paese unico in Europa ad avercelo. E poi perché con questa riforma finalmente la democrazia diretta ritorna protagonista. Infatti sarà più semplice indire dei referendum, perché si abbassa il quorum con 800.000 firme e quindi questo sarà importante per dare più forza ai cittadini e poi perché finalmente le leggi di iniziativa popolare dovranno avere tempi certi per essere discussi alla Camera, cosa che prima non accadeva. Domenico Vapaleo, attivista del Partito Democratico di Bologna.